E' tutta fuffa inutile, risponde il circolo faletra all'ultima lettera della dirigenza del PD, ultima puntata di una querel politica che ormai ha allogorato non solo chi la vive ma anche chi la scrive e prova a raccontarla cercando di far diventare interessante per il pubblico una vicenda talmente interna al partito che se fosse continuata a colpi di whatsapp piuttosto che a colpi di comunicati stampa avrebbe provocato lo stesso effetto. Anzi, forse meglio, l'immagine di tutto il partito ne avrebbe giovato. Mai, come in questa circostanza, la frase «i panni sporchi si lavano in famiglia» può sembrare più opportuna. Fino a che si raccontano delle dimissioni di un vicesegretario, tanto di cappello e un fatto politico, fino a che con un colpo di mano dalla notte al giorno viene presentata la nuova segreteria cittadina con degli esclusi, vale la pena sentire le parti. Ma quello ha detto che quell'altro ha fatto che quell'altro ha detto è fuori dalla notizia giornalistica e fa pensare più ad un grande trivio dove all'imbrunire si dice tutto di tutti. La responsabilità è forse anche in parte degli organi di stampa che prendono ogni comunicato a scatola chiusa, a volte senza discernimento, autorizzando ad un delirio scriventi chi della stampa fa mezzo di comunicazione interna in alternativa ad una telefonata o ad una riunione. Il PD ha una vocazione naturale all'autodistruzione. Troppe anime figlie delle correnti create in un partito che nasce dalla fusione di dei più. È difficile per chi è di estrazione democristiana convivere con chi ha militato nella sinistra giovanile. Ma così è. Questo è il Partito Democratico, pieno di faide interne, colpi bassi, coltelli puntati alle spalle. Bene, lo sappiamo tutti, ne accontezza l'elettorato, gli addetti ai lavori, la città, adesso però lavorate per Caltanissetta. Ed il prossimo compunicato che sia solo propositivo è un auspicio, un desiderio, un umile consiglio.